Sulla Terra moltissime cose accadono contemporaneamente, ad esempio ogni secondo nascono quattro bambini, e in un solo secondo i cuori di tutti gli esseri umani battono insieme ben oltre 8 miliardi di volte. L'universo è incredibilmente grande, si estende per miliardi e miliardi di anni luce in tutte le direzioni, quindi in un solo secondo un'infinità di cose accadono contemporaneamente. Vediamo dunque cosa capita nell'universo in un solo secondo. Ecco, è appena passato un secondo e in questo arco di tempo sono avvenute 30 esplosioni di supernova, le esplosioni più grandi in tutto l'universo. Al tempo stesso ben 4.000 stelle nuove sono appena nate. Nel frattempo il Sole ha bruciato circa un miliardo di tonnellate di idrogeno, il combustibile che dà vita alla nostra stella. L'universo si espande costantemente, e in un solo secondo l'universo si è espanso di 67 chilometri. Sì, in un solo secondo. La Terra invece si è spostata di ben 30 chilometri lungo la sua orbita. Sempre sulla Terra, un centinaio di fulmini hanno colpito la superficie. Su WhatsApp 486 messaggi sono stati inviati, su Facebook 469.000 persone hanno messo mi piace, e su Google sono appena state fatte 3 milioni di ricerche. 2,4 milioni di mail sono state inviate in tutto il mondo, e una lumaca ha viaggiato per solo un centimetro. Ciao, sto addirittura parlando di quello più veloci. Nel frattempo, in un solo secondo, due persone si sono sposate. 4.500 hamburger sono stati venduti solo da McDonald's, e poco meno di 21.000 foto sono state scattate. In un solo secondo, due persone sono morte, e nel tuo corpo sono morte ben 16 milioni di cellule. Nelle foreste, purtroppo, 926 alberi sono stati tagliati, 200 kg di spazzatura sono stati gettati nei nostri oceani, tre squali sono stati uccisi da noi uomini, 5.000 tonnellate di ghiaccio si sono sciotti nell'Antartide, e 1,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica sono stati gettati nella nostra atmosfera. 5.000 tonnellate di ghiaccio si sono stati gettati nella nostra atmosfera.